mito simbolo e rito partiamo dal mito partiamo dal mito che cosa faccio con il mito allora parto proprio dalla semiologia dal mi che è l'elemento semiotico della parola che è il mi che indica proprio la narrazione ed è comune in area indoeuropea abbastanza come radice quindi il mito celebra una narrazione una narrazione che può essere fiabesca però la fiabba alla fine è la prima narrazione mitologica che viene chiacchierata e raccontata ai bambini intorno al fuoco e la racconta il nonno quando c'era il fuoco non c'era la televisione grazie a dio insomma però adesso che purtroppo c'è la televisione il fuoco non c'è più non è vero perché noi ce l'abbiamo e allora io racconto le cose ai bambini i bambini stanno là e fanno e sappiamo benissimo che la fiaba mito ermetica magica e così via è la narrazione del mito e del mistero più interessante che ci sia perché dentro la fiaba c'è tutto per questo in fondazione abbiamo due armadi pieni zeppi di libri che parlano solo di fiaba cioè non ci sono le fiaba c'è proprio entrare dentro la fiaba o la favola o la fabula dentro la fiaba ci sono i principi ci sono i principi archetipali ci sono gli elementi fondanti quello che è tutta la tradizione e la fiaba è il mito quando diventano altamente credibili vengono riuniti in una narrazione episodica che non è solo storica ma anche un coefficiente di spiegazione dell'essere del fine dell'uomo della fine dell'uomo e del suo significato all'interno della vita vissuta all'interno del divenire cioè l'uomo diviene e questo suo divenire molto spesso lo imbarazza lo incasina lo 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 non sa che farci con questo suo divenire perché se nati non fumo a vivere come bruti a un certo punto ci domandiamo ma che ci sto a fare ma cosa servo la risposta più terribile non servo a niente e molti che sono arrivati a questa conclusione se sparano allora supponiamo che questo non accada e che la religione quindi l'elemento religante che riunisce tiene insieme le cose abbia questo coefficiente di affidabilità elevato succede che il racconto la tabula viene sacralizzata per cui diventa intoccabile o diventa un elemento di riferimento perché dentro la fiaba dentro il mito io trovo le radici allora come ci accedo queste radici ci accedo tramite il simbolo e tramite il mito ora vediamo le due modalità perché dopo che ho sacralizzato il racconto poi mi servono le virtù perché mi serve prima di tutto una fede per crederci perché se questo racconto dentro di me resta fiaba si dice ai uomo senza fede se invece aderisco alla fiaba la fiaba diventa attualizzazione diventa sacralizzata e a quel punto ha un senso e spiega la mia natura spiega quello che devo fare e quello che è meglio fare nell'esistenza nella mia vita quella mia e quella della comunità umana che definisco tra virgolette il mio prossimo questo ci sarebbe molto da discutere quindi con che riunisco riunisco e questo vi invito a fare una piccola considerazione che non viene fatta spesso cioè mentre che il simbolo sia simballo cioè rimetto insieme le due parti sconosciute che si sono separate o si sono perdute le rimetto insieme per cui il simbolo è l'oggetto che mette insieme le parti che erano separate tra loro più di ieri meno di domani a monetina gli amanti due parti della mela e così via ne possiamo dire tante dopo che di che è contrario il simbolo semiologicamente non è proprio così però gli assomiglia parecchio il simbolo è contrario del diavolo perché il diaballon mentre il simbolon riunisce il diaballon separa interessante questo no? quindi al diavolo non piacciono i simboli all'elemento separatore che è in noi che è fuori di noi che è sotto di noi adesso non importa dove sta però il separatore colui che separa le cose vuol dire che le tiene distinte e quindi che promuove anche un certo processo di discriminante un certo processo di giudizio il Gesù Cristo che sapeva il fatto suo a un certo punto ce l'aveva molto con i giudici no? non giudicate se non volete essere giudicati invece abbiamo giudici in fondazione? sì un paio ce ne abbiamo però il giudice è un separatore che distingue il vero dovrebbe distinguere il vero dal falso il giusto dall'ingiusto quante volte lo faccia sinceramente non lo so però è terribile perché in realtà separa noi tutti dobbiamo dire sì ma non è sì scegli o di qua o di là o di lì o di qui nota la barzelletta che viene riportata anche a Nasheruddin dal punto di vista Sufi il Sufi vero e immaginario che è Nasheruddin però la diceva pure mio nonno a Frascati quindi si vede che è abbastanza nota il famoso giudice che diceva allora quello si giustiva io ho rubato perché avevo fame e l'altro dice sì ma mi hai fregato le mele sì ma quanto tempo fa eccetera insomma alla fine il giudice dà ragione sia a quello che era stato accusato sia all'accusatore e allora il figlio va da lui e gli va e dice ma papà ma come hai fatto a dare ragione a tutti e due e allora lui dice eh c'hai ragione pure tu chiaro quindi questo è molto interessante nel cammino per la ricerca della verità allora nel il simbolo sotto un certo senso questo dovrebbe riunire l'ideale al percepito cioè il percepito è una il percepito è transitorio io percepisco una cosa quando ora tra un momento la stessa cosa la vedo e non è più la stessa c'era una donna mi piaceva tanto che bella che è eccetera perché stavamo sotto le stelle c'era la luna c'era il mare c'era la canzone Fred Bongusto che ne so ho tutte queste cose così oh che meraviglia che meraviglia poi la rivedo la mattina la gente è brutta e non mi piace più che è successo eppure è sempre la stessa quindi questo è riunire il l'ideale con il percepito non è una cosa tanto facile allora la logica in realtà cioè il processo logico che noi pensiamo che la logica sia estremamente analitica e discriminante in realtà procede per simboli parla per simboli perché il mio processo logico aggrega delle cose che a volte è molto difficile tenere insieme tra loro le mette insieme perché è perché utilizza strumenti simbolici facciamo un esempio che conoscono tutti volate a pensare alla fisica galileiana e alla fisica tolemaica fanno a cazzotti tra loro eppure hanno ragione tutte e due dipende da dove ti metti vedi la fisica dei quanti e la fisica invece lo stesso galileiana e anche la fanno a cazzotti tra di loro ma poi in realtà nel loro spazio funzionano entrambi funziona bene l'universo copernicano e quello tolemaico vanno bene tutti e due se lo vedi da un punto di vista se sei sulla terra e vedi il sole vedi il sole che gira intorno alla terra se sei sul sole vedi la terra che gira intorno al sole quindi chi gira come? e va bene qua dovrebbe fare un discorso astronomico complesso ma questo è tanto per determinare il fatto che l'impressione e la logica può condurre a teorie completamente distinte diverse e anche dimostrarle avendo ragione tutti e due ci dice Euclide che le rette parallele non si incontrano mai ci dice la fisica moderna che le rette parallele forse si potrebbero incontrare all'infinito io e il professor Maracchia ci divertiamo un sacco mio amico storico della matematica che alcuni di voi conoscono è perché lo hanno visto in conferenze altre cose e tanti libri che ha scritto per la nostra fondazione e diciamo ma tu lì all'infinito ci sei stato a vedere come è che fanno queste rette parallele e dice no e allora boh per me si incontrano per me non si incontrano e anche queste sono due posizioni logiche entrambe a seconda di e questo è molto interessante perché stiamo parlando di simboli di un atto di fede non esiste un sistema che prescinda da un atto di fede anche la matematica pure la matematica ha bisogno di alcuni atti di fede perché si stabiliscono dei teoremi io a quel teorema dico beh vabbè sì ok le rette non si incontrano mai oppure si incontrano e se io vado sul non si incontrano mai tiro fuori un certo tipo di geometria se io dico si incontrano all'infinito tiro fuori un altro tipo di geometria tutte e due funzionano qual è quello giusto? molto interessante la ricerca della verità giusta attraverso il simbolo siti di metà ecco e che lascia per le attraverso in Grazie a tutti.